c'è un mondo che si muove che parte dalla gente e non può essere fermato dopo anni di storia sonnolenta di lamentele davanti al telecomando c'è un mondo che si muove è un mondo che non ha età non ha colore non ha poteri da difendere se non la propria dignità c'è un mondo che si muove figli nuovi e passati per abbattere il muro degli ex idealisti accomodati in morbide poltrone con l'obiettivo vacanze morte psicologica e corporale di un'umanità che ora grida e fugge ma c'è un mondo che si muove nei sorrisi in mano nella mano di uomini donne bambini nei cortè improvvisati per l'urgenza di sapere di conoscere la realtà toccandola con mano c'è un mondo che si muove nelle parole di un giornalista che sente come obbligo inderogabile il dovere di verità sancito nelle norme della carta di doveri c'è un mondo che si muove nelle mani di un chirurgo che ha scelto il senso stesso del suo dovere articolo 3 del codice deontologico dovere del medico e la tutela della vita della salute fisica e psichica dell'uomo e sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana senza distinzioni di età di sesso di etnia di religione di nazionalità di condizioni sociali di ideologia in tempo di pace e in tempo di guerra c'è un mondo che si muove nel sorriso di un prete che ha scelto il vangelo cosa strana di questi tempi con tutte le critiche del caso da parte di un padrone spesso troppo incomprante quando sceglie il potere figlio d'altre scritture ma c'è un mondo che si muove nel senso di giustizia nel sacrificio di un magistrato nel sacrificio di un sindaco c'è un mondo che si muove in tutti coloro che proteggono il mondo dai profitti di un'industria che non si ferma nemmeno di fronte ai disastri ecologici e alle estinzioni delle specie viventi c'è un mondo che si muove in ogni uomo e in ogni don che si indigna di fronte alla mercificazione dell'essere umano c'è un mondo che si muove per ridare vita alla parola pace denunciando ogni pensiero di guerra che si radica nella nostra esistenza e nel nostro territorio e c'è un mondo che si muove per proteggere l'acqua l'acqua fonte di vita c'è un mondo che si muove nelle parole dei poeti degli scrittori dei cantanti degli artisti che comunque sia vanno avanti perché se la gente sa e la gente lo sa che sai suonare suonare ti tocca per tutta la vita e ti piace lasciarti ascoltare c'è un mondo che si muove ed ora è arrivato il momento di gridare al cielo c'è un mondo che si muove cammina con lui già in tanti sono in marcia e il loro viaggio è verso il sole e qui mi dico se non ora quando è continuano